Affermare che siamo alle solite risulterebbe un'affermazione vecchia, però purtroppo corrisponde alla verità. Il sindacato confederale per l'ennesima volta denuncia il danno che si arreca ai lavoratori che nessuna responsabilità hanno e potranno avere in merito alla gestione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, gestione con evidenti lacune, tanto che la città è sporca. Lo dice Ignazio Giudice, segretario generale della CGL. Non sono stati lavoratori a scrivere il bando di gara e il relativo capitolato d'appalto, non sono stati lavoratori a scegliere servizi aggiuntivi, non sono stati lavoratori a decidere la turnazione, né sono stati lavoratori a scegliere di dare la proroga del servizio alla Tecra. Fa tutto la politica e come fa dovrebbe pure risolvere i problemi generati da un modo di fare che di certo a qualche punto discutibile nel percorso in tanti hanno riscontrato e più volte fatto rilevare. Giudice sottolinea di aver incontrato il sindaco di Gela, Domenico Messinese, per informarlo del fatto che la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti deve ancora pagare lo stipendio di dicembre ai lavoratori. La stessa azienda campana, sottolinea Giudice, sostiene di non avere percepito soldi dal comune. Il primo cittadino nella secondare le rivendicazioni del sindacato ha detto che la Tecra complessivamente deve ricevere circa 6 milioni di euro così distribuiti, 4 milioni e mezzo dalla gestione Fasulo e la restante parte dall'attuale amministrazione e solo il Consiglio Comunale può trattare i debiti fuori bilancio. Ma in tutto questo si chiede alla CGL cosa centrano i lavoratori con le autonome scelte della politica? Ogni consigliere è libero di votare a favore o contro o astenersi ad ogni debito fuori bilancio e va rispettato, ma il problema resta politico e amministrativo. Il sindacato ha già informato il prefetto, rifidato legalmente alla Tecra e il comune, responsabile in solido nel controllo dei diritti dei lavoratori. La CGL, continua giudice, cerca soluzioni ad oggi distanti e le cerca in un settore nevralgico per l'importanza che il servizio riveste. Non è scaricando il problema che il problema si risolve, è gravissimo l'importo citato dal sindaco e grava tutto sulla testa e la vita di ogni singolo cittadino. Bambini appena nati, inclusi, che per l'ente comunale hanno già un debito da cittadini e lo hanno per centinaia di euro. Anzi, per essere precisi, continua giudice e sinceri, un bambino che nasce a Gela ha già un debito di 80 euro per il solo servizio rifiuti e lo stesso bambino avrà i genitori che rischiano di vedere i pannolini non raccolti per giorni. Tutto così logico e tutto senza vedere soluzioni, perché, chiude giudice, chi sbaglia non paga mai.